Ciao, in questo video facciamo la passeggiata a tre tempi, disegnando un semicerchio nello spazio. Mettiamoci in preparé e iniziamo a fare tre passi e al quarto tempo alziamo la gamba mettendo la punta del piede in contatto con l'adduttore, entrambe le braccia in terza posizione. 1, 2, 3, sospendo. Ripetiamo. 1, 2, 3, sospendo. 1, 2, 3, sospendo. Ripetiamo la passeggiata a tre tempi cambiando la variazione al quarto tempo. Metteremo un arabesque. 1, 2, 3, arabesque. 1, 2, 3, arabesque. 1, 2, 3, arabesque. E concludiamo con un giro chanè facendolo sul posto. Ora insieme all'arabesque mettiamo il braccio che disegnerà un piccolo cerchio. Braccio corrisponde alla gamba. 1, 2, 3, 4 e concludiamo 5, 6, 7, 8. Partiamo con la sinistra e mettiamo insieme le passeggiate su. 1, 2, 3, su. 1, 2, 3, su. 1, 2, 3, su. Altra passeggiata. E 1, 2, 3, arabesque. 1, 2, 3, arabesque. 1, 2, 3, arabesque. E concludiamo 5, 6, 7, 8. Ora mettiamo insieme le due passeggiate partendo con la gamba destra. Velocità più sostenuta. sinistra. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, su. 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 1, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, arabesche, 1, 2, 3, arabesche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questo è stato il nostro esercizio, grazie per essere stata con me, ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie a tutti!